Quest'anno la festa di San Domenico sarà particolarmente ricca e bella di iniziative presso la parrocchia San Domenico a Caltanissetta. Partiremo giorno 21 con un raduno di tutti i battezzati di qualsiasi età proprio nella nostra parrocchia, alle 18.30 con la Santa Messa e poi vivremo un momento di gioia, di festa, di comunione nel ricordo del Santo Battesimo. Giorno 22 abbiamo invitato le suore, le religiose che sono così numerose e una presenza particolarmente significativa nella nostra città anche per ricordare San Domenico che ha fondato l'Ordine dei Predicatori. La terza sera del Triduo, giorno 23, avremo invece una messa particolare con le donne, le gravide e coloro che hanno partorito quest'anno. Ma nella stessa giornata del 23, nella mattina, avremo un altro momento molto bello e importante in collaborazione con il Comune, con la scuola, con l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto e con alcune associazioni sportive. Nelle tre piazze del nostro quartiere faremo giocare i bambini a mini basket, mini volley, li faremo danzare proprio per esprimere la gioia dell'essere insieme, la gioia dell'essere cristiani. La festa si concluderà giorno 24, quando avremo proprio nella mattina alle 11 la celebrazione della messa a collunzione degli infermi. Di pomeriggio alle 18.30, tutte le celebrazioni sono sempre alle 18.30, celebreremo la messa solenne e al termine della quale ci sarà una processione per le vie del quartiere con le reliquie di San Domenico. Ecco, nella nostra parrocchia purtroppo due anni fa c'è stato questo furto, è stata rubata la reliquia di San Domenico, qualche giorno fa, ecco grazie anche al nostro vescovo, è ritornata una nuova reliquia di San Domenico che attraverserà le vie della nostra città, del nostro quartiere, anche per questa benedizione del Signore attraverso un frammento dell'osso di un grande santo.